L'incidente è oggi lunedì 8 ottobre intorno alle 17 sulla strada provinciale 222 Trozegna e Castellamonte di fronte allo svincolo per la Pedemontana. A scontrarsi due vetture, una Fiat Panda condotta da Donaldo Vallero, parroco di Ponte Canavese, 74 anni, e una Fiat Punto con a bordo una coppia di pensionati. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Bianca del Canavese, i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea e i carabinieri della stazione di Rivarolo Canavese. Donaldo, subito soccorso, è stato dopo le prime medicazioni trasportato all'ospedale di Cornier, ha riportato una ferita alla testa e fortunatamente non è in pericolo di vita, illesi i pensionati. Grazie. Grazie. Grazie.